Cerchiamo di ridurre il più possibile il numero di persone che pervengono nel nostro comune sempre con l'intento di ripareggiare un po' le sorti con gli altri comuni. Quindi io faccio anche un appello attraverso questo canale per far sì che i miei colleghi sindaci del Val D'Arno, del Casentino, della Val di Chiana si rendano conto che non può sopportare tutto Arezzo e che quindi anche loro devono un po' torto collo accettare dei migranti. Preoccupazione per l'arrivo di nuovi migranti nel territorio aretino da parte del sindaco Alessandro Ghinelli che chiede una distribuzione più equa tra il comune capoluogo e le altre vallate. Però la pressione è alta e quindi la preoccupazione di riuscire a gestirli correttamente esiste, c'è indubbiamente. Poi c'è da vedere come avverranno le adesioni ai bandi che la prefettura ha già esteso. Io ricordo che appena insediato e appena insediato anche il prefetto Guidi lei mi chiese la disponibilità perché l'era stata indicata dalla USL di Villa Chianini. Villa Chianini al Pionta e io dissi no, per l'amor di Dio, lì proprio no. Ed effettivamente quella residenza fu poi scartata. Spero che non ritorni di moda nell'emergenza perché il Pionta è già un luogo di difficilissima gestione. Il ruolo dei comuni e delle prefetture in tema di sicurezza, gestione del territorio anche per l'arrivo dei migranti potrebbe cambiare, se andrà in porto, il disegno di legge proposto dal ministro Alfano. In questo rientra il grande tema delle risorse. Cioè se il governo pensa che affidare i migranti ai comuni significhi soltanto togliersi un problema, sbaglia. Se oltre al pacchetto normativo che prevede l'utilizzo del sindaco come primo responsabile della sicurezza ma dandogli anche le risorse per poterlo fare, allora le cose cambiano. Allora il sindaco può effettivamente operare meglio che non, ora non dico che non le prefetture perché le nostre prefetture stanno operando al meglio, però probabilmente con un pochino più di autonomia i sindaci potrebbero risolvere forse qualche problema in più. Sentiamo fortemente questo coinvolgimento e vorremmo esserne esentati però se dobbiamo starci dentro almeno che ci vengano date le risorse e i mezzi anche di tipo ordinamentale per poter ben operare.